buongiorno fratelli dio vi benedica grandemente anche oggi che vi dia un giorno bellissimo con la sua presenza ad ogni passo buongiorno un nuovo giorno per gesù grazie signori dici oggi condividere un messaggio sperante per te signor viviamo in un mondo così brutto così stanno rovinando tutto tutto inquinato con la plastica inquinato con la sporcizia inquinato con le guerre questo perché il cuore inquinato quando il cuore inquinato tutto inquinato adesso voglio andare su marte su marte si per inquinare anche la vogliono portare virgolette la civiltà di darwin l'uomo su homus erectus homo fallimentarius ovunque guardi nel mondo vedi nella politica nelle scuole vero il vero vero cuore vero spirito del mondo vedi nelle guerre infatti il signore ti ha dato un bellissimo messaggio una profezia da parte di gesù su questo sul fatto che nel mondo se guardiamo la natura vediamo cose bellissime come le montagne i laghi il mare però poi guardiamo la società vediamo guerra e vediamo malattie contaminazione odio tra gli uomini e perché siamo arrivati a questo punto e la bibbia dice perché l'uomo senza dio l'uomo ha respinto cristo respinto dio prima volta ha dovuto mandare il diluvio la seconda volta ha mandato gesù cristo adesso vediamo se il mondo capisce bene se no regno di dio non può adattarsi all'uomo malvagio adattarsi alla zizzania adattarsi al diavolo adattarsi ai suoi figli e il mondo che deve adattarsi tu non vai a scuola per cambiare la legge della matematica le regole dalla fisica no dobbiamo adattarci noi a queste leggi sì 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 imparare ecco questo è il messaggio che gesù mi ha dato riguardo a questo signor aiutami a darlo nel modo che tu mi hai dato signore signora come c'ho qui negli appunti signor aiutami a trasmetterlo signore mi aiuti con la scrittura sì allora gesù dice il mio regno viene il mio regno che viene la terra che io avevo creata era bellissima più bella delle parti più belle che puoi vedere ora ma l'uomo stolto ha ascoltato il dio dal suo egoismo e ha rovinato tutto il dio del volere tutto subito non importa a scapito di chi è come il contadino che si mangia la semenza che dovrebbe poi seminare è come la presente malvagia zizzania delle multinazionali del nemico che creano semi che non si riproducono li creano per rendere i popoli loro schiavi stolti non capiscono che stanno accettando l'esca zuccherata di satana che porta al suicidio planetario anche la cosiddetta depopolazione non è idea del cosiddetto nuovo ordine mondiale ma del loro padre il diavolo con ogni morte ogni guerra il maligno guida il mondo verso quella direzione e ma io ho fatto fallire il suo piano ogni volta e farò fallire anche questo avverrà al termine di questo tempo della fine nel mio terribile giorno del Signore e la malvagia zizzania mieterà la morte che ha seminato io sto per stravolgere i piani dei malvagi il nemico sarà sconfitto e terminerà nel fuoco Apocalisse 20, 10 e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli Apocalisse 20, 10 qualcuno chiede perché io non lo fermo ora tutto questo male perché non è ancora il momento non tutti i miei figli scritti nel mio libro dell'agnello hanno ricevuto la mia liberazione e salvezza anche i miei santi in cielo pregano per la stessa cosa Apocalisse 6, 9 a 11 quando l'agnello aprì il quinto sigillo vedi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa essi gridarono a gran voce fino a quando aspetterai o Signore Santo e Veritiero per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro Apocalisse 6, 9 a 11 Romani 8, 19 a 22 Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma a motivo di colui che ve la sottoposta nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio Romani 8, 19 a 22 figli e abbiate fede perseverate anche ora mentre attendete il mio regno il gioco del maligno già vi è stato tolto nello spirito siete liberi e quando sarete completamente nel mio regno mi ringrazierete per non aver risposto prematuramente a preghiere impazienti il tempo si avvicina e io darò inizio ai miei mille anni di vera giustizia e pace quando i miei santi regneranno dalla presente Gerusalemme con la mia potenza e autorità avverrà presto quando la presente Israele della carne si sarà convertita in quel giorno i miei santi mostreranno ai popoli del mondo come avrebbero dovuto vivere e governarsi sulla terra in amore amicizia condivisione e altruismo come io ho mostrato di persona quando sono venuto di persona io ho dato l'esempio ma allora non ci sarà più l'adorazione del proprio egoismo come avviene nel mondo oggi non ci sarà più l'ingordigia le guerre la oppressione dei poveri come avviene oggi apocalisse 20 1 a 4 poi vi discendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano egli afferrò il dragone il serpente antico cioè il diavolo satana lo legò per mille anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo verso 4 poi vidi dei troni a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni Apocalisse 20 1 a 4 Apocalisse 21 5 a 11 e colui che siede sul trono disse ecco io faccio nuove tutte le cose poi mi disse scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere e aggiunse ogni cosa è compiuta io sono l'Alfa e sono l'Omega il principio e la fine a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua e della vita chi vince erediterà queste cose io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio ma per i codardi gli increduli gli abominevoli gli omicidi i fornicatori gli stregoni gli idolatri e tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo vieni e ti mostrerò la sposa la moglie dell'agnello egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima come una pietra di diaspro cristallino Apocalisse 21 5 a 11 Gloria a Dio grazie Signore te ringraziamo per questo messaggio e ti benediciamo Gesù Alleluia Amen Amen Grazie a tutti Grazie a tutti